Questa stagione autunnale si prospetta pienissima di roba da vedere, ma onestamente essendo rimasto scottato dalla stagione precedente in cui nonostante abbia apprezzato moltissimi titoli usciti mi sono annoiato abbastanza a seguire determinati anime che pensavo avrei apprezzato e per questo per il video di oggi ho deciso di portarvi meno anime rispetto al solito perché vorrei evitare di caricare di belle parole un titolo inutilmente per poi restarne deluso e non parlarne bene poco dopo. Di conseguenza oggi vi porterò più sequel, quindi seconde stagioni e così via, rispetto al solito. In questo video infatti vi parlerò dei trailer di 16 tra gli anime che usciranno in totale, ma di questi ben 9 sono dei sequel, quindi sì, una bella scrematura insomma. Ovviamente zero spoiler, gli anime in questione devono ancora uscire, quindi direi di non perderci in chiacchiere inutili. Iniziamo! Il primo anime di cui vorrei parlarvi oggi e di conseguenza di cui sono davvero curioso di seguire l'adattamento animato è Diapotecari Diaries. Conosciuto in Italia come i diari della speziale, di fatto J-pop ne sta portando il manga da un po', ma la serie originale è comunque la light novel, sempre conosciuta in Italia come il monologo della speziale, edito dalla Docuscio. Prima che quest'ultima lo portasse avevo iniziato a seguirne il manga e sin dal primo volume mi prese tantissimo, tanto che ero intenzionato a continuarlo, ma ormai sono mesi che si sa dell'uscita di questo adattamento animato, quindi preferirei seguire questo per poi continuare sia con il manga che con la novel. La storia in sostanza racconta di Mao Mao, questa 17enne presa come schiava della corte imperiale della Cina, ma che grazie alle sue conoscenze come farmacista arriverà a farsi conoscere e rispettare, aiutando a guarire varie persone importanti per l'imperatore, sino a venire riconosciuta e trattata come merita e non più come una schiava. Il trailer tra l'altro è veramente ben montato, mette tanto hype per questa serie e spero di cuore che non sia solo il trailer ad essere bello, ma che la serie riesca a tenere fede alle aspettative di chi come me non vede davvero l'ora di iniziarla. Ron Kamonoashi è un investigatore privato che ha abbandonato gli studi all'Accademia dei Detective, nonostante fosse il più rinomato detective al tempo, ormai 5 anni fa, per via della sua particolare condizione. Di fatto è sì un investigatore privato, ma al contempo una persona che cerca di rifiutare qualunque coinvolgimento con i misteri e i vari casi di questo tipo, sin quando un giorno alla sua porta non bussa Totomaru Ishiki, un poliziotto che manca di capacità ed esperienza, ma che vuole comunque dare una mano e per questo si affida proprio a Ron, inconsapevole ovviamente della sua particolare condizione. I due infatti iniziano a lavorare insieme risolvendo i vari casi di omicidio che capitano sotto mano a Totomaru, facendo in modo che il merito vada proprio a quest'ultimo. Il resto lo scopriremo insieme seguendo nella serie. Ho letto una decina di capitoli in passato proprio di quest'opera perché cercavo qualche giallo intrigante, ma ho capito subito non facesse per me. Di opere simili preferisco seguirne l'adattamento animato se disponibile, di fatto sono sicuro che lo seguirò in simulcast curioso di vedere come lo avranno realizzato e come proseguirà la storia da dove l'ho lasciato io. Una commedia di emenzia alla stagione ormai è il minimo sindacale a quanto pare e sicuramente non me la lascerò sfuggire. Questa in particolare si prospetta essere un'opera molto stupida che mi ha ricordato dal trailer Bloodlad, ma che nella pratica dovremo vedere se sarà divertente tanto quanto quest'ultima. La storia sembra ruoterà attorno a Comari, una vampira reclusa che un giorno si risveglia e scopre di essere diventata il comandante di un'unità dell'esercito imperiale affidatole direttamente dall'imperatrice. Il problema principale di Comari è che non è capace di bere sangue e nel caso i suoi sottoposti lo scoprissero si ribellerebbero subito in quanto verrebbe considerata veramente troppo debole. Il suo obiettivo quindi sarà con l'aiuto della sua amata Maidville di nascondere questo suo segreto a chiunque e dimostrarsi degna del ruolo affidatole. Insomma una trama molto debole condita da un trailer abbastanza tiepido, sicuramente uno stagionale che seguirò perché appunto vorrei seguire qualcosa di leggero e si spera divertente, ma sicuramente non penso che qualcuno potrà gridare al capolavoro. Prima di guardare i trailer ammetto che mi aspettavo qualcosa di leggermente diverso, più fantasy e con uno stile diciamo alla rewrite, ma non lo so. Questi trailer mi hanno dato delle vibes completamente diverse e più alla Mefura, in cui la protagonista non è proprio il personaggio più sveglio dell'opera, ma soprattutto la stessa e più commedia che drama. A quanto ho capito, la trama di Tier Moon Empire seguirà il risveglio di Mia, la protagonista della storia e principessa appunto del Tier Moon Empire. Ella è stata condannata alla ghigliottina per via delle sue pessime scelte e del suo pessimo comportamento come principessa, ma una volta uccisa si risveglia appunto nel passato, a 12 anni. Sostanzialmente deciderà di cambiare il suo fato e di impedire la caduta del suo impero, solo perché non vuole riprovare la ghigliottina perché... fa un male cane. Insomma, non la più nobile delle motivazioni, ma sicuramente comprensibile. Non penso che mi aspetterà chissà che opera complessa o interessante, ma sono sicuro che comunque seguirò Tier Moon Empire, perché l'idea di base mi piace parecchio e sono curioso di vedere come verrà sviluppata. Uno shoujo è in verità davvero poco interessante, che seguirò perché sicuramente è un buon modo per spegnere il cervello, e sicuramente I'm in love with the villainous. Anime che sembra per nulla originale, almeno per quanto riguarda il design dei personaggi, palesemente riciclato da qualche altra commedia simile a questa. Nonostante tutto, però, penso che gli darò un'occhiata, perché sicuramente è un buon modo per passare il tempo. La storia sembra parlerà del rapporto fra due personaggi in particolare, la bella e cattiva Claire, l'antagonista di un otome game, e la protagonista della storia, una ragazza di nome Ray, che si risveglia nei panni di Ray Taylor, la protagonista dell'otome game. A differenza di ciò che raccontava la trama principale del videogioco, che vedeva Claire bullizzare Ray così che lei si potesse legare ai protagonisti maschili, questa Ray è innamorata persa dell'antagonista e la inonderà d'amore indipendentemente da quanto quest'ultima la tratterà male. Insomma, zero pretese per questa storia, ma spero solo che almeno il comparto tecnico sia nella media, perché per il resto non sarà sicuramente nulla di eccezionale. Con un nome impronunciabile, ma con un trailer e un incipit davvero interessanti, questo è un anime a cui sicuramente darò almeno un'occhiata. Le premesse sono davvero buone, e a parte alcune cose che sembrano davvero trite e ritrite, il tutto mi ispira al quanto. L'opera in teoria ruota attorno a due protagonisti, che si incontreranno in circostanze particolari e che creeranno un rapporto solido che li porterà effettivamente a crescere il loro interesse reciproco durante il corso della storia. Essa comunque racconta di Charlotte e Allen. Quest'ultimo è un mago misantropo e per questo vive lontano dalle altre persone, nel profondo di una foresta, ma un giorno fa l'incontro di Charlotte, una ragazza che trova svenuta nei pressi della sua abitazione e che sembra sia stata costretta a fuggire dal suo paese per paura di essere uccisa. Empatizzando con la ragazza, decide quindi di accoglierla a sé ed insegnarle ogni atto malvagio che conosce, così da temprarla e avere a fianco a sé qualcuno che lo capisce. Insomma, un anime che non sembra sarà sicuramente il migliore della stagione, ma con tutte le potenzialità per stupire, e spero di cuore che sarà effettivamente così. Vorrei chiudere questa prima parte del video con Shangri La Frontier, opera di cui ho letto un paio di capitoli qualche mese fa per capire di cosa parlasse, e devo dire che mi ha colpito in positivo. Non volevo spoilerarmi troppo in attesa di questo adattamento animato, quindi anche di questo nuovo anime so davvero ben poco. Il protagonista sembra sia questo Raku Rezutome, ragazzo che ama finire giochi bruttissimi che nessun altro vorrebbe mai giocare, e per una volta decide invece di provare un gioco apprezzato da chiunque sotto consiglio di una sua amica. Questo è appunto Shangri La Frontier, un videogioco pieno di misteri e con un gameplay molto piacevole, cosa molto nuova per Rakuro. Decide quindi di mettersi in gioco creando un personaggio bizzarro e ignorando il tutorial, così da avviarsi direttamente in questa nuova avventura in VR. Questo è quanto, sono molto curioso di scoprire, come voi, dove questa avventura lo porterà. Prima di passare alla seconda parte del video vorrei che fosse chiaro che questa non sarà priva di spoiler, in quanto vi parlerò dei sequel che non vedo l'ora di iniziare. Ho deciso di non parlare a ruota libera così da non far durare troppo il video e renderlo fruibile anche per chi non ha ancora iniziato gli anime di cui parlerò, ed è curioso al riguardo, ma comunque continuate nel caso a vostro rischio e pericolo, dato che appunto sarebbe preferibile essere in pari con le stagioni già uscite degli anime di cui parlerò. Detto questo, andiamo avanti. Four Nights of the Apocalypse è un anime di cui aspetto tremendamente l'uscita, in quanto ne sto leggendo il manga e mi sta piacendo abbastanza, ma soprattutto si parla del sequel effettivo della saga dei nostri amatissimi Sette Peccati Capitali, manga che finì al tempo e che mi piacque parecchio, nonostante tantissimi difetti estremamente evidenti di cui anche questa nuova opera non è esente. Sembra infatti che l'autore abbia deciso di marcare ancora di più l'erotismo in questo manga, creando situazioni ed usando particolari inquadrature che accentuano la sfumatura di Hechi, presente nell'atmosfera dell'opera e io non sono un grandissimo fan di queste cose. Nonostante questo la storia mi piace, i personaggi sono quasi tutti più che apprezzabili e i riferimenti all'opera precedente non mancano, giustamente essendo comunque il sequel diretto, quindi non vedo l'ora di vedere, spero un adattamento fatto coi fiocchi. Ho apprezzato molto la prima parte di Dead Mount Dead Play e per questo non vedo davvero l'ora di iniziare anche questa seconda parte che spero di trovare interessante tanto quanto quella precedente. Ho apprezzato tantissimo la storia e i personaggi mostrati nella prima parte, di fatto ho letto anche buona parte del manga perché la storia e i suoi risvolti mi avevano preso davvero tanto. Sono curioso di vedere come verranno gestite nel concreto le informazioni che ci sono state date durante gli episodi precedenti e spero di cuore che l'opera in sé si mantenga sempre interessante e che diano uno stramaledettissimo corpo robotico al povero Polka. Penso che se lo meriti. Uno dei miei anime preferiti è sicuramente The Ancient Magus Bride, opera di cui ho parlato sempre più spesso e che col tempo ho continuato ad apprezzare sempre di più. Questo è uno di quei fantasy che consiglio di vedere davvero a tutti se si apprezzano opere molto lente che si prendono il proprio tempo per costruire varie situazioni e scenari complessi all'interno di una storia ricca di personaggi interessanti, forse non tutti caratterizzati e gestiti al meglio, ma per buona parte sì. Io ovviamente sono di parte perché amo Cise come personaggio e la trovo fantastica sotto ogni punto di vista, ma come lei tutti gli altri personaggi protagonisti di questa bellissima storia che spero continui ancora per molto e che riesca a regalarmi le stesse emozioni ogni volta ed anche con questa seconda parte. Non saprei davvero cosa aspettarmi da questa seconda stagione di The Faraway Paladin, soprattutto dopo aver visto il trailer che mi ha fatto capire ancora meno cosa potrebbe essere mostrato. Probabilmente prima di iniziarla mi farò un rewatch della prima così da rinfrescarmi la memoria, dato che non ricordo benissimo nemmeno quella, ma so per certo di averla apprezzata appieno. Il protagonista, William, è ovviamente un isekaizzato che cresce durante il corso della prima stagione e se non sbaglio essa raccontava proprio il suo percorso di crescita e la partenza dal luogo in cui era cresciuto, accudito dai tre non morti che lo hanno accolto quando era ancora un infante. Sono molto curioso di vedere questo William più maturo e di scoprire dove lo porterà questo suo viaggio, soprattutto perché ho apprezzato molto il mood della prima stagione e mi piacerebbe che l'opera continuasse ad essere interessante senza troppi momenti morti e soluzioni sbrigative. Ammetto di essere ancora un pochino in stallo con la terza stagione di Dr. Stone, quindi questa sua seconda parte sicuramente non la potrò seguire in simulcast. Ho comunque apprezzato tantissimo le prime due stagioni e anche questa terza, secondo me, è davvero valida ed è il motivo per cui non sto continuando col manga. Trovo affascinante l'adattamento animato che, grazie a degli ottimi doppiatori e a delle bellissime animazioni, riesce ad essere uno degli anime più piacevoli ed interessanti da seguire. La prima parte di New World ha addirittura introdotto Ryusui, un nuovo personaggio estremamente interessante e particolare che ho genuinamente apprezzato sin da subito anche più di Tsukasa ad essere sincero nonostante ovviamente i loro ruoli siano completamente diversi. Insomma sì, questa seconda parte di New World la vedrò sicuramente, ma penso con i miei tempi senza correre troppo. Non è passato davvero tantissimo, ma a me è sembrata un'eternità. Finalmente avremo la seconda stagione di The Eminence in Shadow, Isekai che ho amato tantissimo e che considero uno dei migliori degli ultimi anni a mani basse, ma soprattutto con il miglior sviluppo. So benissimo che non tutti amano Seed, il suo SROP e spaccone al contempo non aiuta, ma il fatto che sia così diverso e consapevole di se stesso lo rende appunto unico ed è proprio una delle cose che più mi piacciono di quest'opera. Non vedo l'ora di poter iniziare questa seconda stagione che seguirò sicuramente in simulcast e di cui più avanti parleremo, spero in positivo, sicuramente in un video apposito. Ovviamente se non l'avete ancora visto ve lo straconsiglio soprattutto se siete amanti del genere Isekai e non disegnate personaggi assurdamente OP come Ainz di Overlord e simili, perché in tal caso sicuramente Eminence in Shadow lo troverete a dir poco perfetto. Spy Family è un anime che mi piace tantissimo, non è per nulla impegnativo e divertente e soprattutto ha dei personaggi veramente carini. Sino ad ora l'opera ci ha mostrato la doppia vita dei nostri tre protagonisti, quella privata e quella da famiglia felice che cerca di legare sempre più. Inoltre Ania come personaggio ho visto che ha riscosso un successo enorme nella community che lo ha seguito, cosa che mi ha fatto particolarmente piacere. Spero che questa seconda stagione non stai lì troppo ma che porti ad un qualcosa, magari ad un particolare sviluppo della storia e che essa non si riveli sin troppo lunga, perché è sicuramente un bell'anime ed è piacevole da seguire, ma già nella prima stagione ho notato che alcune cose sarebbero potute essere più brevi, senza troppe lungaggini artificiali e spero di cuore che non sia la stessa cosa anche in questa seconda stagione. Dopo aver finito più e più volte la prima stagione di Goblin Slayer e in seguito anche il film, non vedo l'ora di poter mettere le mani anche su questo sequel tanto atteso almeno da me. La prima stagione, ricordo, era abbastanza macabra, almeno agli inizi, ma soprattutto originale, per via del mood con cui veniva presentata. Insomma abbiamo questo cast di personaggi il quale nessuno di loro ha un nome proprio e già questo lo adoro, ma soprattutto l'atmosfera dark fantasy, ma non troppo, mi è sempre piaciuta tantissimo ed è per questo che non vedo l'ora di poter iniziare questa seconda stagione nella speranza che sia molto superiore rispetto alla prima che a un certo punto, ricordo, si perdeva malissimo con delle brutte animazioni e della pessima CGI. Sì, insomma, speriamo che tecnicamente sia almeno poco più che guardabile. L'ultimo anime di cui vorrei parlarvi oggi e di conseguenza che aspetto con tantissimo hype è la terza stagione di The Rising of the Shield Hero, anime che era iniziato col botto, di fatto mi aveva invogliato a continuare la lettura del manga che avevo iniziato qualche tempo prima fosse trasmessa la prima stagione, ma la seconda tolta a Kizuna mi ha molto deluso. La qualità tecnica si è abbassata di molto e i nuovi personaggi, Kizuna a parte appunto, li ho trovati molto poco interessanti personalmente. Avrei preferito di gran lunga qualcosa di molto più godibile e realizzato meglio, ma soprattutto a livello della metà della prima stagione. Spero quindi che questa terza stagione si riprenda e non risulti troppo tediosa da seguire, perché sarebbe davvero un peccato. Ebbene anche per questo lungo e interminabile video è tutto. Spero di cuore che vi sia piaciuto e che stiate aspettando con trepidazione l'inizio di questa stagione quanto me. Scusatemi per il ritardo, ma ho avuto tantissimo da fare nell'ultimo periodo, spero di riprendere al più presto, con una pubblicazione regolare e di portarvi tantissimi nuovi anime di cui poter parlare insieme. Fatemi sapere ovviamente quali anime vedrete voi questa stagione e se siete d'accordo con me con questa piccola lista o se qualcuno di questi non vi è del tutto convinto. Comunque diciamo che per oggi abbiamo finito, noi come sempre ci sentiamo. Alla prossima! Grazie a tutti!